Angel e Fate, spin-off della stagione 9 di Buffy. Entrambi a fumetti, parliamone nel dettaglio per immergerci meglio nella stagione 10 di Buffy. Wabalabadabdabe, bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Buffyverso. Come annunciato ormai un po' di tempo fa, sono a parlare dello spin-off Angel e Fate, che si colloca esattamente a... si integra anzi perfettamente con la stagione 9 di Buffy. Ma cosa sto dicendo? Stagione 9 di Buffy, spin-off Angel e Fate? Ma non erano 7 stagioni di serie TV? Non erano 5 stagioni di Angel in serie TV? Sì, state tranquilli, adesso vi spiego tutto come se questo fosse il primo video che avete mai visto. Prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi al mio canale, se ancora non lo avete fatto, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che amano il Buffyverso e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo riassunto e di questa serie in generale. Vi ricordo anche di seguirmi sugli altri miei social per seguire tutto quello che faccio al di fuori di YouTube. Vi consiglio in particolar modo Instagram e Twitch per rimanere aggiornati, per essere un po' più completi su tutto quello che faccio. Come tutti sanno, in principio Buffy era una serie TV, anzi, a voler essere nerd precisi, in principio era un film orrendo. Poi è diventata una serie TV cult di gran successo, con 7 stagioni all'attivo e uno spin-off di altrettanto successo chiamato Angel, che si diramava dalla stagione principale a partire dalla quarta stagione madre. Quindi la quarta stagione di Buffy corrispondeva alla prima stagione di Angel e così sono andate avanti per un po'. Angel è andato avanti anche in autonomia per un anno, quindi Angel ha avuto una quinta stagione che non aveva, diciamo, una controparte materna in Buffy e poi è tutto finito. Tra l'altro Angel è finito pure con un cliffhanger. Cliffhanger che è stato, diciamo, sopperito con una sesta stagione a fumetti che si chiama Angel dopo la caduta, Angel After The Fall, penso anche questo abbastanza introvabile, di cui potete trovare un riassunto nei video che ho fatto a vostra disposizione, che trovate qua sotto in descrizione. Dopo quello che abbiamo letto in Angel After The Fall, si colloca la stagione 8 di Buffy, che racchiude in 8 volumi, spessi così, tutta la storia principale e coinvolge tutti i main character della serie. E quello che è successo alla fine della stagione 8 di Buffy, quindi è uno spoiler se non avete ancora letto la stagione 8 di Buffy, è che Angel, posseduto, nata a volta, da un'entità esterna, in questo caso si chiamava Twilight, che era l'incarnazione di un nuovo universo che doveva essere concepito da Angel e Buffy, ha inavvertitamente, cioè inavvertitamente, posseduto da questa entità, ha ucciso il signor Giles, ha spezzato il collo al signor Giles. Questo è un elemento cardine per far sì che nasca questa serie. Primo perché dopo questi eventi era impossibile collocare Angel nella stagione madre, perché Buffy o Xander lo avrebbero sicuramente ucciso, e secondariamente perché la morte di Rupert Giles è molto connessa a questa stagione. E sì, perché con la morte di Rupert Giles, Giles ha lasciato tutte le sue proprietà testamentarie, a parte il libro sui vampiri che ha lasciato a Buffy, tutte le sue proprietà le ha lasciate a Fate, Fate Lehan, perché fondamentalmente è quella che forse ne ha un po' più bisogno, no? Di una stabilità dopo tutta la vita che ha vissuto. E dal momento che Fate, in un certo senso, si sente in debito con Angel per tutto quello che Angel ha fatto per lei, cioè la salvata laddove gli altri la rinnegavano. Angel è un po' l'antitesi di quello che fa Buffy. Buffy caccia i mostri, Fate era diventata un mostro. Mentre Angel, un po' come Dylan Dog, vuole aiutare le anime perdute, e anche le anime perdute di persone che hanno commesso delle feratezze, esattamente come Fate. E questo è successo già nella terza stagione di Buffy, e poi nella prima stagione di Angel. Fate vuole saldare questo debito con Angel, e quindi prende un Angel totalmente stordito da quello che ha appena compiuto, e ovviamente sappiamo tutti che Angel è il re dei sensi di colpa, lo porta con sé a Londra, nella casa che era di Jais, per cercare di rimetterlo in piedi. Scoprirà presto, appena Angel si riprenderà, che Angel ha un piano a riguardo, ovvero vuole riportare in vita Jais. Ma attenzione, come può riportare in vita Jais da una morte naturale? Sappiamo che ci sono certe regole nell'universo di Buffy, non siamo in Dragon Ball, non ci sono cose magiche che fanno risuscitare cani e porce, altrimenti sarebbe troppo facile, altrimenti la mamma di Buffy sarebbe stata risuscitata, eccetera. L'unica eccezione è stata Buffy, perché è morta di una morte mistica, ovvero si è lanciata in un portale per poterlo chiudere. E quindi come si fa a svicolare da una regola così ferrea creata nell'allore dello stesso universo che ha plasmato Joss Whedon? Si fa una serie intera per poterci girare attorno. Ma se lo dico con ironia, in realtà la serie è bellissima, a me è piaciuta anche più della serie Madre, ma forse sono di parte perché, non lo so, anche con la serie TV ho del vissuto con Angel. Quindi in questi cinque numeri vedremo Angel e Fate cercare appunto di trovare un modo per riportare in vita Giles. Questo è il motivo principale che manda avanti la serie, poi ovviamente ci sono dei nemici e c'è uno scontro finale ovviamente. Quello che mi piace di questa serie spin-off, che tra l'altro è ripresa in mano da Joss Whedon, è il fatto che riporta bene al centro il concetto che avevano con Angel, con la serie Angel all'inizio, ovvero laddove Buffy si occupa di salvare il mondo, Angel si occupa di salvare una persona, ed è un po' quello che vediamo anche in queste due serie. Mentre Buffy cerca di ripristinare la magia, di impedire che, adesso non mi ricordo come si chiamava, quel cattivo, non so, distruggesse il mondo, facesse qualcosa del genere, qui Angel ci tiene particolarmente a salvare l'anima che lui stesso ha provocato, l'anima di una persona che lui stesso ha provocato, di cui ha provocato la morte. Nel finale si rischia comunque una sorte del mondo, ma viene in un certo senso circoscritta la città di Londra, che è un po' anche qui un altro espediente che usavano con Angel per circoscrivere i problemi alla città di Los Angeles. E se questo rende il tutto un po' ridimensionato, ma anche più, non lo so, ti ci fa affezionare di più, perché senti un po' più la capillarità del problema. Anche qui incontriamo personaggi vecchi e nuovi. I personaggi vecchi sono principalmente Whistler, che è colui che ha indirizzato Angel verso Buffy. Noi lo abbiamo visto in un flashback della stagione 2 di Buffy, dove tutto ebbe inizio, qualcosa del genere, dove si scopre come Angel sia stato portato fuori fondamentalmente dall'immondizia, dall'essere un senza tetto che si cibava di sangue di ratto, a diventare un prototipo di aiutante di Buffy. E' stato Whistler a condurre Angel sulla strada di Buffy. Tra l'altro il personaggio di Whistler doveva anche comparire nella prima stagione di Angel, ma l'attore non era disponibile e lo hanno sostituito con il personaggio di Doyle, che comunque si è sacrificato anche nella settima puntata della prima stagione di Buffy. Però il look è identico, infatti io avrei anche cambiato il look di Doyle proprio per evitare questa confusione. Però, ecco, Whistler fondamentalmente poteva essere ricordato come un protodoyle. Qua invece ha un compito molto strano. Vi ricordo sempre che siamo nell'universo di Buffy, ambientato in contemporanea con la stagione 9 di Buffy, e che quindi la magia è stata del tutto portata via con la distruzione del seme. Quindi anche qua ci sono gli zompiri, ma ovviamente non sono il motivo principale della serie, perché sennò sarebbe ridondante con la serie Buffy. E tutte le persone che erano in qualche modo connesse alla magia ne hanno risentito, tra cui anche Whistler. Whistler era qua su questo mondo per tenere in equilibrio le forze tra il bene e il male, ma senza la magia pare si sia un attimo disequilibrato lui stesso. E quindi vediamo fondamentalmente Whistler come il cattivo di questa stagione, perché, a detta sua, come un Thanos de no altri, lui vuole riportare l'equilibrio in questo mondo e adesso che non c'è la magia, lui vuole trovare un modo per riequilibrare tutto, vuole riportare la magia anche a costo di sacrificare un terzo dell'umanità. Whistler ci svelerà che lui stesso è figlio di un agente delle forze dell'essere e un demone puro, quindi lui stesso è molto più potente di quanto non avevamo mai visto nel flashback della stagione 2 di Buffy. E il tutto è anche giustificato molto bene. E al soldo di Whistler, o meglio, con lo stesso obiettivo di Whistler, ci sono due scagnozzi molto inquietanti, che sono anche loro una progenie da un essere umano e un demone. A differenza di Whistler, loro sono stati plagiati dalla propria madre umana in quanto portatori di un nuovo stadio evolutivo dell'umanità. Loro vogliono far sì che l'umanità diventi sempre più demoniaca e si evolva dal loro stadio umano. Infatti hanno puntato ad accoppiarsi con quanti più demoni possibili, ma quando poi i loro figli demoniaci sono stati uccisi, allora adesso si sono associati al piano di Whistler perché, diciamo, le conseguenze del piano di Whistler potrebbero portare appunto la nuova umanità a generare molti, molti più demoni o molti più ibridi demoni umani, se vogliamo. Esattamente come si prefiggeva la serie originale Angel rispetto a Buffy, questo spin-off rispetto alla serie madre è molto più splatter, ci sono delle scene molto più cruente che fondamentalmente in Buffy non si vedono. Tra gli altri personaggi nuovi spiccano Alistair, che è un osservatore che era molto amico di Giles e che aiuterà i nostri eroi nell'intento, non senza riserve, perché, badate bene, a parte l'ossessione di Angel, tutti sono molto titubanti sul fare un incantesimo del genere. Tra tutte Fate, che è quella che davvero spicca, quella che davvero brilla in questo fumetto, è il personaggio trattato meglio che ha una crescita maggiore, è un personaggio che già adoravo prima, adesso adoro ancora di più. Inoltre ci sono le due prozie di Rupert Giles, che sono giovanissime, sono più giovani nell'aspetto di Fate, ma hanno più di cent'anni, questo perché loro hanno usato sempre la magia per tenersi giovani, belle e vanesie, ma non si sono mai interessate, diciamo, del destino dell'umanità, ma ci tengono anche loro al proprio nipotino e quindi salgono su questo carro. Sono la linea comica, ma sono anche molto utili quando serve. Sono dei personaggi che potrebbero risultare antipatici, ma in realtà sono molto simpatiche e interessanti. E infine abbiamo Nadira, una delle tante potenziali cacciatrici diventate cacciatrici a tutti gli effetti dopo l'incantesimo della settima stagione. Fondamentalmente è a capo di un branco di cacciatrici che pattugliano Londra, che a loro volta è guidato da Fate, che fa loro da mentore, fa loro da guida, anche se sappiamo tutti Fate non vuole tutta questa responsabilità addosso, non vuole questo ruolo, ma fondamentalmente la sua esperienza medesima non fa altro che aiutarle. Onestamente non ricordo se Nadira l'avevamo vista nella stagione 8 di Buffy, che ho letto molto in fretta, oppure è un personaggio che viene semplicemente accennato. Fatto sta che Nadira ha un conto in sospeso con questi due gemelli mezzi demoni, di cui scusate non mi ricordo il nome, e vuole ucciderli a tutti i costi, però vuole uccidere a tutti i costi persino Angel, perché sa che è lui il responsabile della rottura del seme. E quindi Fate è nella scomoda posizione di dover mentire a Nadira e tenere nascosto il fatto che lei è fondamentalmente in combutta con Angel. Mentirei se vi dicessi che la parte che mi è piaciuta di più di questo spin-off è il fatto che vanno a rivangare un po' anche nel passato di Angel per chiarire alcuni punti. C'è il numero 3 dove appare Connor e appare la dimensione demoniaca di Quartot. E badate bene, la bellezza anche di questo spin-off della stagione 9, oltre ai due one-shot di cui vi parlerò in un altro video apposta, che sono Willow e Spike, è il fatto che si intrecciano tutti alla perfezione. Infatti io faccio molta fatica a parlarvene con dei video separati, ma in realtà l'ideale sarebbe leggere il numero 1 di Buffy stagione 9, il numero 1 di Angel spin-off, eccetera, eccetera. Si collocano perfettamente anche i due one-shot Willow e Spike. Nel numero 3 di Angels c'è Willow, che era appena andata via dalla stagione madre Buffy con l'ascia che aveva sottratto a Buffy, alla ricerca della magia, un modo per riportare la magia sulla Terra. Scopriamo che questo modo è fondamentalmente andare nell'unica dimensione che non è accessibile tramite i portali, che i fan di Buffy sanno essere Quartote, quindi ha bisogno di Connor per poterci andare. Quindi abbiamo un fantastico numero 3 ambientato a Quartote e il proseguo di questo numero in cui Willow finalmente da Quartote riuscirà ad andare in un altro universo che possiede la magia, lo scopriremo appunto nel one-shot di Willow e poi da questo one-shot di Willow si ritornerà nel finale di Buffy di cui vi ho già parlato nel video che trovate qua in descrizione. Per quanto riguarda invece il one-shot di Spike è al contrario, ovvero noi vediamo Spike che se ne va dalla serie madre Buffy per un imprecisato motivo alla ricerca di avventure non si sa e poi c'è il one-shot Spike di cui vi parlerò e quando alla fine arriva a dare una mano a Angel nel numero 4 lui ha già avuto le avventure del one-shot di conseguenza vediamo Buffy, il one-shot di Spike e il numero 4 di Angel. Nel numero 4 di Angel riceve appunto una telefonata sul fatto che Dawn sta male. Scopriamo che Angel e Fate già si stanno dimenticando chi è Dawn mentre Spike che ci ha passato molto più tempo assieme se la ricorda ancora e quindi torna ad aiutare la gang principale, la Scooby Gang e ovviamente torna nella serie madre di Buffy. Ecco, questo è un po' il percorso che fanno tutti questi numeri, tutto questo intreccio fantastico è degno della serie televisiva Buffy. Non mancano anche puntate fantastiche, verticali, in cui c'è una storia che coinvolge Drusilla, c'è un'altra storia un po' meno principale che coinvolge Harmony, c'è una storia che coinvolge il padre di Fate, quindi esattamente come nella serie Angel ci sono appunto delle trame verticali abbastanza indipendenti che ci staccano un attimo dalla serie madre ma che ci danno un po' quel senso di Help the Helpless che c'era nella serie televisiva. Ma torniamo all'incantesimo principale e alla conclusione di questa trama e di questo video. Fondamentalmente come vuole fare Angel a riportare in vita Giles? Essenzialmente dal momento che Giles nel corso della sua vita è stato a contatto con un sacco di fonti magiche il suo obiettivo è andare a pescare pezzi della sua anima che per diverse ragioni non è andata dove dovrebbe andare ma appunto è rimasta incastrata sulla terra andare a prendere questi pezzi questi frammenti della sua anima e ricondurli in un portale in una specie di anello che ha sul capezzolo che poi condurrà l'anima di Giles all'interno del suo corpo del corpo di Angel mentre fa questo ovviamente dovrà anche occuparsi del corpo che fondamentalmente il corpo concernerà il disseppellirlo e rinfondere la sua anima in questo corpo che chiaramente deve essere anche riportato a uno stato tale da non far sì che Giles diventi uno zombie per questo dico che è un incantesimo molto difficile già normalmente molto complicato ancora più complicato dal fatto che non si è più connessi con la magia in questo mondo ma non si sono dimenticati assolutamente che la parte più grossa dell'anima di Giles è legata a qualcosa del suo passato non si sono dimenticati che Giles era lo squartatore che la sua anima è legata a Aegon quindi sono andati a rispolverare Ethan Hawke e Aegon Ethan Hawke tra l'altro era apparso nella stagione 8 di Buffy ed era stato ucciso qui lo vediamo vivo e vegito tra virgolette in realtà è posseduto anche lui dall'entità di Aegon che a tutti gli effetti ha assunto un corpo finalmente si è manifestato totalmente in maniera corporea anche sul nostro piano esistenziale e proprio perché non c'è più la magia non può più tornare al suo piano è proprio per questo che Spike appare anche in questo spin-off perché Angel ha bisogno di un secondo vampiro con l'anima in modo che si possa un po' replicare l'esperimento che abbiamo visto nella stagione 2 di Buffy ovvero che se per caso Aegon tenterà di impossessarsi di un vampiro che ha già un demono in corpo in teoria dovrebbe essere sbattuto fuori e se non bastasse Angel c'è sempre anche Spike inutile dire che tra mille peripezie riescono a ottenere tutto quello che vogliono per poter fare l'incantesimo in Santa Pace ma vengono interrotti nel finale proprio da Whistler e dai due gemelli Meraviglia che vogliono appunto porre atto al loro piano di cui vi ho accennato all'inizio il loro piano appunto è scusate l'ironia diffondere un'epidemia mistica loro vogliono andare a raccimolare anzi hanno raccimolato in tutti questi numeri tutti gli oggetti magici intrisi di magia che hanno trovato vogliono racchiuderli in una sorta di sfera Genkidama di magia e diffonderla come se fosse appunto un virus su tutta la Terra in questo modo la Terra non avrebbe più bisogno di essere collegata a reami mistici per avere la magia in questo modo tutti i terrestri avrebbero la magia quindi ognuno potrebbe cavalcare unicorni sparare raggi laser dagli occhi fare quello che volete però questo potrebbe anche causare esattamente come abbiamo visto in questi due anni l'epidemia può anche causare la morte di innumerevoli persone e il calcolo di Whistler è che circa due miliardi delle persone su questo pianeta a seguito di questa epidemia potrebbero anzi sicuramente moriranno il prezzo da pagare è un prezzo a cui Whistler è disposto è disposto a pagare un prezzo del genere perché a Whistler interessa solo l'equilibrio mentre Angel non vuole sacrificare assolutamente le vite per questa cosa per la magia capisce anche che in realtà Whistler non ragiona lucidamente è l'assenza di magia a far distogliere Whistler dall'obiettivo del bene comune così prende questa sfera Genkidama e la sbatte addosso a Whistler lo inzuppa di magia una volta che Whistler non è più affamato di magia si rende conto di quello che stava facendo e di quello che aveva già iniziato a fare perché questa sfera aveva già iniziato a contagiare alcuni londinesi vediamo dei londinesi che si sono sciolti in maniera orrenda un londinese che è diventato un lupo mannaro vabbè lupo mannaro americano a Londra vabbè fa niente vediamo una ragazza che sviluppa delle ali da fata una ragazza che sviluppa dei serpenti al posto dei capelli tutte queste cose qua quindi Londra è irrimediabilmente mutata non tutta ma buona parte dei londinesi vediamo un bambino che sviluppa degli arti da ragno che non può abbracciare la propria madre che è in fiamme come una torcia umana tutte queste oscenità fanno rinsavire Whistler che decide quindi di fare del bene sacrificarsi e distruggere con la sua stessa vita questo orbe questa sfera che aveva creato per evitare che si diffonda nel mentre i gemelli meraviglia vengono finalmente affrontati e uccisi da Nadira anzi solo uno viene affrontato e ucciso la sorella resta in vita viene affrontato da Nadira che però purtroppo non ci lascia le penne ma resta irrimediabilmente sfigurata ma forse pare che quest'orbe magico l'abbia in un certo senso toccata quindi potrebbe sviluppare anche lei degli effetti secondari degli effetti magici comunque è molto sfigurata ed è in in riabilitazione alla fine dell'episodio la vediamo su una barella malgrado tutto l'esperimento l'incantesimo riesce e Giles torna in vita però vi ricordate le zie insomma le zie che sono molto più vecchie di Giles e che ricordavano Giles quando era piccolino ecco Giles torna in vita ma in un corpo di Giles dodicenne quindi abbiamo Conan Super Detective con gli occhiali abbiamo Giles con la sua esperienza tutto quello che ha passato tutto quello che ha vissuto la sua anima intatta nel corpo di un Giles dodicenne e questa è forse la cosa fondamentale da sapere per leggere la stagione 10 di Buffy questo perché superato lo shock iniziale Giles vuole appunto tornare nell'unico posto dove si è sentito a casa dove si è sentito felice cioè accanto a Buffy e la sua gang frase che tra l'altro fanno un poco male al cuore di Fate che vuole mollare tutto molla tutto probabilmente andrà a lavorare per Kennedy per quell'agenzia di cacciatrici che abbiamo visto nella nona stagione di Buffy mentre Angel resterà a Londra continuerà ad aiutare questi londinesi mutati soprattutto se qualcuno vuole approfittare del potere che ha per prevaricare sugli altri oppure difendere invece chi si sente indifeso e Giles appunto andrà a ricongiungersi con la Scooby Gang quindi quello che io mi aspetto di vedere dalla stagione 10 di Buffy sarà una Giles come presenza fissa uno Spike che era già tornato che potrebbe fare avanti indietro come fa sempre e un Angel e una Fate che sono invece fuori dalla serie madre principale ma che potrebbero essere visti magari per un episodio per un numero all'occorrenza ragazzi io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video settimana prossima uscirà il video sui due one shot e poi parleremo finalmente della decima stagione di Buffy arrivederci un episodio Grazie a tutti